Oggi, venerdì 20 aprile, siamo qui all'Università degli Studi di Bari Aldomoro. Abbiamo appena finito di vedere le premiazioni delle Olimpiadi Nazionali di Astronomia e abbiamo incontrato i ragazzi che quest'autunno andranno nello Sri Lanka a fare le finali internazionali e abbiamo chiesto cosa si porteranno nella valigia. Credo ovviamente le cose necessarie, ma soprattutto qualcosa per ripetere, anche perché la prova internazionale è nota per essere impegnativa, non solo dal punto di vista della preparazione, ma a volte anche sul piano dell'immaginazione o dell'ingegno necessario per risolvere dei problemi apparentemente inusuali. Credo che porterò con me, appunto, come diceva anche lui, qualcosa da studiare, appunto perché certamente gli internazionali hanno la loro difficoltà e poi naturalmente la mia voglia e le mie capacità. Io sicuramente molto impegno e molta volontà perché, appunto, come hai detto, anche dai miei compagni internazionali non sono una prova semplice da superare, però provo a rappresentare la mia nazione come meglio posso. Io sicuramente mi porterò un ricordo delle gare che ho svolto, quelle interregionale e nazionale, così per ricordarmi dove sono arrivato e che posso fare di più. Io invece porterò con me soprattutto le persone che mi sostengono, perché, ad esempio, questa gara, la finale nazionale, tutti mi hanno detto vai Sofia, dai che sei la più forte, cose del genere che pare una stupidaggine, invece ti motivano. Quindi credo che porterò con me proprio tutte le persone, i miei compagni di classe, soprattutto i miei genitori, la mia famiglia, perché il loro tifo mi aiuta ad avere le illuminazioni. Come sono andate questa edizione delle Olimpiadi di Astronomia? Grande soddisfazione. Quest'anno abbiamo raddoppiato il numero di finalisti, quindi era una nuova sfida, però erano tutti, a detta della giuria, molto bravi, molto preparati e questo è l'importante. Ho avuto dei commenti positivi sia dai docenti che dagli studenti che sembra che si siano divertiti, anche pur non avendo vinto, perché ovviamente i vincitori sono pochi e l'importante è partecipare ed essere soddisfatti di quello che uno fa. Se loro sono contenti, siamo contenti anche noi. Abbiamo finito un percorso meraviglioso che ha avuto una grande utilità. Abbiamo detto ai ragazzi che devono andare oltre i propri limiti, come devono andare oltre gli insegnanti, come devono andare oltre tutti quelli che partecipano. Le Olimpiadi sono una sfida con se stessi di imparare delle cose e in più è un'apertura sul mondo per diventare delle persone con la testa aperta, viaggiare, andare in giro. Questi ragazzi andranno alle Olimpiadi, i cinque, in una Sri Lanka. È un viaggio nel futuro, è un viaggio anche nel loro futuro e nel nostro futuro. Noi siamo le persone che devono lavorare per offrire agli altri, anche a noi stessi, delle occasioni per essere meglio di quello che siamo. E le Olimpiadi servono a questo, anche a questo. Dov'è questo Sri Lanka? Credo in Asia. In Sud Asia, vicino al sud della Cina, se non sbaglio. Eh vabbè, in Asia, vicino l'India, praticamente un'isola. Un'isola vicino all'India. Confermi? Sì, è un'isola al sud dell'India. Tra l'altro aggiungo che l'ottava generazione Pokémon, perché io ho proprio una passione per Pokémon, pare essere ispirata allo Sri Lanka, quindi sono molto eccitata di andare lì. Alla prossimasche . Alla prossimaly. Grazie a tutti.